Vogliono lo scontro totale, vogliono l'allargamento del conflitto. Tutti i vari Zelensky, filo Zelensky, europeisti convinti, vanno all'assalto della stessa persona, dello stesso orco, il piccolo Putin europeo. Vedremo poi chi è. Zelensky stesso, il presidente della Repubblica Ucraina, intervistato alla BBC, si accanisce contro la Germania e soprattutto contro, guardate caso, l'Ungheria di Orban Victor. Appena rieletto, con due terzi del Parlamento, maggioranza assoluta dei voti. Zelensky, in la sua intervista, viene ovviamente spalmata, condivisa a mille all'ora, da tutti i vari quotidiani giornali online, in rete, europeisti, globalisti, italiani, primo su tutti, ovviamente open. Zelensky attacca Germania e Ungheria, bloccano l'embargo sull'energia, gas e petrolio. Quei soldi sono sporchi di sangue, critica Germania e Ungheria accusandole di aver bloccato tutti gli sforzi per un embargo sulle vendite di energia. Andiamo avanti, lo stesso Zelensky su Instagram che cosa fa? Elenca tutti i vari tipi di armi che servono per la difesa dell'Ucraina, la difesa rispetto alle truppe russe. Anche se nelle ultime ore lo stesso Zelensky sta contrattaccando in territorio russo. Non è la prima volta, ma in modo più significativo, anche in zone civili. Andiamo a sentire le sue richieste. Eccetera. Ora, questo vi sembra paragonabile al presidente eletto democraticamente, socialista, marxista, per carità, Noy Imre, nel 1956 ungherese, quando faceva degli appelli disperati alle Nazioni Unite, all'America, all'Occidente americano-filoamericano, sotto l'ombrello americano, o quando scriveva all'amico Togliatti, vi sembra una situazione paragonabile al 1956 ungherese oppure no? Secondo me no, è letteralmente una bestemmia. Basta scrivere queste cavolate storiche. Andiamo avanti. Lo stesso presidente ucraino chiede alla von der Leyen, in visita a Kif, 7 miliardi di euro al mese per mantenere le spese per gli stipendi, le spese sociali in Ucraina. Uno stato molto in difficoltà, ovviamente. Se volete sostenere l'informazione, indipendente dai partiti di stampo nazional conservatore, potete farlo tramite i link in descrizione. Paypal e bonifico bancario. Cosa? Chi attacca Orbán, il piccolo Putin europeo? Anche, ovviamente, Macron, in un comizio elettorale. Siamo di fronte tra il primo e il secondo turno per l'Eliseo, contro Marine Le Pen, e a Strasburgo, sul palco, un uomo protesta a basso la Repubblica, via la Repubblica. Allora lui risponde, tu devi ringraziare Dio di stare in una democrazia, di vivere a Strasburgo. Prova a vivere in Ungheria, che è una dittatura. Ovviamente il video viene ripreso da Eurofake News. Oh, scusate, Euro News nella sua sezione. No, comment. Andiamo a vedere il video. Sentite il popolo di Macron, neoliberale, europeista, come acclama il suo grande Napoleone, grande piccolo Napoleone. Ovviamente Macron si dimentica di ricordare quello che succede nella Francia dello Stato di diritto europeo, le proteste represse dalla polizia, spesso brutalmente, la polizia attaccata nei quartieri ricchi di diversità, soprattutto intorno alle grandi città. Parigi, Lione, Nizza, Bordeaux, Marsiglia, Grenoble. Si dimentica poi dei gilets jaunes, tutto quello che è successo, dei rodei con le moto fatte da cittadini di seconda, terza generazione, non autoctoni, ma lasciamo perdere. Donald Tusk attacca ovviamente Orban, il piccolo Putin d'Europa, dell'Unione Europea. Donald Tusk, il polacco europeista di centro, non diciamo destra, non diciamo fesserie, centro piattaforma civica, è un partito europeista, di centro polacco, P.O. Varsavia non sarà una nuova Budapest, infatti, che cosa fa? Democraticamente, critica, non accetta i risultati delle elezioni del 3 aprile in Ungheria. E in sostanza, gli ungheresi, secondo lui, non vedono in maniera critica, sovversiva dello Stato di diritto, le elezioni di Orban, ma vedono Orban come la stabilità. Pensate, gli ungheresi non capiscono l'Ungheria. Tusk lo capisce meglio, che è venuto sul palco in Ungheria, durante la campagna elettorale, per appoggiare Mark Iso, il leader delle opposizioni europeiste unite, anche con il capo di Jobbik, partito di ex estrema destra, oggi vuole entrare nel Partito Popolare Europeo, Jokov Peter. Lui vicino a Jokov Peter, il segretario. Tusk dice, siamo buoni amici con gli ungheresi, storicamente, ma siamo differenti in tutto, a cominciare dalla lingua, ma anche dalla politica. Ma quanto rosica e quanto vuole tornare al potere questo uomo in Polonia e in Unione Europea? La stampa tedesca e europeista, da un giornale di nome Focus, che cosa insinua? Denuncia che Orban, l'Ungheria, si libera della minoranza Rom, spedendola come rifugiata, ucraina, dalle bombe, dalla guerra in Ucraina, verso i campi profughi di Monaco, di Baviera. Avanti tutta, Newsweek, giornale abbastanza globalista, americano, Orban, è quello che peggiorerà, sta peggiorando le relazioni, i problemi, tra la Unione Europea, l'Occidente e la Russia. Non sono quelli che mandano i governi, che mandano armi, che non usano la diplomazia per niente. No, il problema, chi è che ingigantisce tutti i problemi con Putin, dell'Europa, è Orban Victor, che è di fatto uno dei pochi, se non l'unico ponte, rimasto in Unione Europea, forse Macron e qualcun altro. Mondiner, il Telegraph giornale inglese, che era per il Remain, contro la Brexit, gli ungheresi hanno rieletto, scelto un'altra volta Orban Victor, e non importa loro le preoccupazioni dell'Unione Europea, della Commissione Europea, sullo Stato di diritto europeo violato, ovviamente no, rosicate pure. Comunque, il Ministro Ceco, la stampa di Praga, che cosa dicono? Che non ci sarà alcuna assistenza umanitaria, aiuto umanitario, per i profughi di etnia Rom, con cittadinanza doppia, ungherese, ucraina, che scappano dalla Transcarpazia, quella regione con la minoranza ungherese, un oblast dell'Ovest, ucraino, questo va bene, la stampa italiana se lo dimentica, ovviamente, per una svista ovviamente. Poi, i russi, hanno abbattuto, molte batterie, di missili antiaerea, S-300, inviati dalla Slovacchia, all'Ucraina, dove, a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, e a sud dell'Ucraina, Mikolaev, S-300, abbattuti, appena una giornata dopo, il loro invio. In Ucraina, questo è la stampa italiana, se lo dimentica, perché ovviamente, la guerra va raccontata, solo e esclusivamente, con una prospettiva, quella di Zelensky, quella della politica, al comando, in Ucraina, appoggiata, da tutta la creme della creme, quella elite, globalista, americana, nello stato profondo, deep state, democratico, americano, e da tutti quei filantropi, non oligarchi, come Shorosh, della Open Society. Poi, in Italia, nessuno dice, che il capo dell'opposizione europeista, unita ungherese, in campagna elettorale, negava tutti, negava tutti, i collegamenti, i legami, i contatti, col ministro degli esteri, Ucraino, Kuleba, contro Orban Vittor, in campagna elettorale. Adesso l'ha ammesso, domenica l'ha ammesso, ci sono stati dei contatti, voleva andare in visita, a Kiev, ma poi, il collegamento è stato interrotto, da un allarme, bombardamento, a Kiev, e Zelensky, non ha potuto parlare, restare in contatto, in quella giornata, con Mark Isoy, l'eroe della democrazia, della resistenza democratica, ungherese. Poi, ciliegina sulla torta, Vucic, grande amico di Orban, allora, Vucic, amico anche della Russia, e della Cina, è visto come un orco, in Europa, ma non in Unione Europea, un altro piccolo, Putin come Orban, che però sta nella Nato. I serbi, negli ultimi sette anni, sono diventati tre volte, in percentuale, più negativi, nei confronti dell'Unione Europea. Non vedono, come è possibile più, l'entrata del loro paese, nella Unione Europea, nella comunità europea, tanto acclamata da tutti, e quella creme della creme, che vive nei centri città, e assaggiano, assaporano, quel meraviglioso globalismo, di cui tutti noi, siamo fieri in Occidente, come no. E comunque, i serbi, il 20% dei cittadini serbi, non vede, di buon occhio, l'Unione Europea. Chissà perché, visti anche i passati, storici. Come sempre, grazie di aver visto, questo segmento, al prossimo, tra Italia e Maggiore Orsano.